Chi dimentica il passato è destinato a ripeterlo. Questa frase campeggia nel campo di sterminio di Dachau ed è una frase che è stata ripetuta anche questa mattina a Tarantapelligna nel corso della cerimonia che è stata organizzata dall'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia e dall'Associazione Brigata Maiella per ricordare i partigiani abruzzesi. La Brigata Maiella guidata da Ettore e Domenico Troilo che nel 1945 ha contribuito alla liberazione dell'Abruzzo e dell'Italia dal nazifascismo. La Brigata Maiella ebbe un ruolo di primo piano nella lotta di liberazione dell'Italia. Nel 1944 i partigiani abruzzesi furono inquadrati nella 209esima divisione di fanteria dell'esercito combattendo al fianco delle truppe alleate dall'Abruzzo fino al Veneto. La Brigata Maiella venne insignita della medaglia d'oro al valore militare nel 1963 e proprio a Tarantapelligna arrivò nel 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha definito il 25 aprile il secondo risorgimento. La cerimonia svoltasi davanti al Sacrario della Brigata Maiella hanno partecipato tanti giovani scolareschi e rappresentanti di associazioni dei sindacati CGL Cisle Will, i consiglieri regionali Giovanni Legnini e Silvio Paolucci, il sindaco di Tarantapelligna Marcello Di Martino e i sindaci di diversi comuni della provincia di Chieti. Antonio Iovito della Presidenza Provinciale dell'Ampi di Chieti e Claudio Maderloni della Segreteria Nazionale dell'Ampi hanno ricordato gli oltre 1700 componenti della Brigata Maiella, tra i quali si annoverano 54 caduti, 131 feriti, 36 mutilati, 15 medaglie d'argento e 43 di bronzo e 144 croce al valore militare. Pensiamo che sia importante e fondamentale trasmettere la memoria e all'interno della memoria trasmettere alcuni valori che sono insiti nella lotta di resistenza e sono poi state trasmessi nella Costituzione che non dimentichiamo è una delle Costituzioni più belle che ci stanno al mondo. Il 25 aprile a 74 anni sono ancora valide le motivazioni che hanno portato donne e uomini, tanti e di tanti cedi diversi, a darci questa libertà, che la Costituzione venga applicata.